Una doppietta di Napoletano intervallata dal momentaneo gol del pareggio di Ferrante ha permesso al Matese di superare il Castelfidardo e riscattare prontamente il K.O. di Castelnuovo Umano. Al decimo i padroni di casa sono passati in vantaggio, Napoletano raccoglie palle in aria, la sua conclusione si insacca tra portiere e palo per l'1-0. Al diciassettesimo il tiro dal limite dell'area di Ricciardi sfiora il palo. La reazione del Castelfidardo, cross di Percovic per Cardinali, la conclusione supera del giudice ma non Congiu che salva sulla linea. Alla mezz'ora Tribelli lanciato sul filo del fuorigioco arriva tu per tu con il portiere ospite, provvidenziale l'intervento di De Mali che mette in angolo. Due minuti più tardi Matese ad un passo dal raddoppio, corner di Ricciardi sul secondo palo, è appostato Congiu che colpisce a botta sicura ma il portiere compie un altro miracolo. Un primo tempo che regala molte emozioni, 42esimo e il colpo di testa di Ricamato trova ancora pronto De Mali. Sulla ripartenza il Castelfidardo pareggia i conti Cosimano per Fermani che supera del giudice in uscita e sigla l'1-1. Prima dell'intervallo Fabiano per la testa di Napoletano che fa esplodere il Ferrante per il 2-1 del Matese. Nella ripresa i padroni di casa sfiorano più volte la terza rete. Al decimo Fabiano non riesce a sfruttare un errore dalla difesa. E poi Galesio ancora una volta decisivo il portiere del Castelfidardo. I ragazzi di Mister Urbano riescono ad amministrare bene la gara e a mantenere invariato il risultato. Unica nota prima del triplice fischio al 93esimo. Da poco entrato l'Angelotti si fa espellere per doppia munizione. Adesso il campionato si fermerà per una settimana per dare spazio al torneo di Viareggio. Il Matese tornerà in campo sempre al Ferrante, questa volta contro il Notaresco.